Trovare i professionisti dell'artigianato giusti in modo facile e veloce? Certo, con Renovero, il numero uno delle piattaforme per artigiani in Svizzera. Per trovare su Renovero.ch l'artigiano che cerchi, ti basta inserire i dettagli rilevanti del tuo annuncio. Dopo una breve verifica, l'annuncio sarà pubblicato e potrai ricevere fin da subito l'offerta di tanti artigiani professionisti nelle tue vicinanze. Grazie alle decine di migliaia di valutazioni e a una trasparenza incredibile, sarà facile scegliere naturalmente tutto tramite Renovero e fin qui assolutamente senza vincoli. E assegnare rapidamente la commessa con un clic. E poi ci si mette subito al lavoro. Con professionalità, cortesia e affidabilità. E al lavoro concluso, sarai ben felice di dare un punteggio e una valutazione appropriati. Ma poi, come sempre, si fa prima a farlo che a dirlo. Tu hai l'idea. Noi gli artigiani. Renovero.ch